2 minuti 2, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma che fine hanno fatto le consulte istituite dal Consiglio Comunale? Quelle ad esempio al turismo o al decoro urbano e ce ne dovrebbe essere anche una alla cultura. Chi li ha viste? È un momento particolare per la vita della città, quello in cui l'opinione pubblica è congorda nel sostenere che bisogna incentivare lo sfruttamento dei tesori culturali, delle ricchezze archeologiche e naturalistiche nel nostro territorio. C'è un appuntamento importante che aspetta Gela, molto più importante della mostra Sudisse a Bosco Rittorio che sta inviammando tanto il dibattito cittadino. È l'apertura all'inizio del 2023 del Museo della Nave, sempre a Bosco Rittorio. Le mostre hanno un inizio e una fine, prima o poi quella Sudisse chiuderà i battenti. Il vero investimento è sul Museo del Mare, che resterà per sempre e non bisogna farsi trovare impreparati. Serve la decisione di una città intera sulla direzione da prendere, partendo da sentire le consulte comunali, le associazioni di settore, di specialisti. Un progetto attorno al Museo della Nave va costruito e ciascuno deve metterci qualcosa. Se non si rema tutti nella stessa direzione, è la nave Gela che affonderà. Al prossimo appuntamento. Due minuti due. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Grazie a tutti.